Allora Antonio Viola, un'altra stagione, un altro Calice Cup edizione 2018, tutto cambiato ma le persone mi sembra che sono sempre alle stesse, no? No, quest'anno abbiamo un motore nella macchina, si chiama Mauro Giannattasio, è qualcosa di indescrivibile, ci sta facendo un cambio di mentalità perché sull'entusiasmo alla fine tutte le cose vanno a scemare, mentre con Mauro ci sta dando proprio un'immagine da professionisti e non professionali, e non solo professionali, perché noi fino adesso eravamo professionali ma non eravamo professionisti. Parliamo del Calice in sé per sé, mi sembra che le squadre che si sono iscritte siamo al numero quasi, anzi numero superiore rispetto all'anno scorso che comunque c'era il Gedo 84, chi c'era il Cuscazzini? Quest'anno solo Gedo 84, no? Allora, mi sa che abbiamo superato un po' di record quest'anno, in quanto abbiamo 35 squadre 16 maschile, 12 femminili e 6 under 18, ma soprattutto abbiamo 3 nazionali e quindi il livello tecnico è aumentato, si gioca su 4 campi, circa 110 partite, ci sta il campionato italiano, quindi abbiamo le squadre campioni d'Italia dell'Oderzo, il pluricampione d'Italia del Grosseto, nonché i campioni d'Europa edizione 2017 del Detona, sia maschile che femminile, le ex campioni d'Europa femminile degli olandesi del Camelot, comunque sarà una bella battaglia A livello dei dati, confermo la partenza, il prossimo weekend, appunto, inizio di luglio, no? Siamo venerdì 6 alle 3, si incomincia a giocare per finire alle 19 di domenica, quindi tra gli stabilimenti balneari, Miramare, Aurora, Serapide, Arena Beach, si vedranno solo giocatori che si spostano in continuazione per raggiungere i campi. Quest'anno abbiamo anche il quinto campo, infatti sulla domenica mattina ci sarà la rappresentativa regionale di zona che verrà a fare un torneo under 12 per cercare di divulgare al meglio il beach handbook. Non voglio dire una cattiveria, ma allora il discorso del senior di palla a mano di Gaeta 34 che si è riposato qualche mese vi ha fatto bene per organizzare questo Calise 84, questo Calise Cup 2018. Va bene, è normale che se hai meno pensieri nella testa rendi meglio su qualsiasi altra cosa. Il fatto che adesso dobbiamo rivedere se riusciamo a riformare una squadra di club la vedo dura, però niente è in, si può dire, chiuso. Intanto aspettiamo come entra a finire questa edizione del Calise Cup, potrebbe essere un trampolino di l'angelo sia per il che del 84 che per la città di Gaeta, no? No, ma ormai per la città di Gaeta è sicuramente un trampolino, siamo tra i primi dieci tornei d'Europa, inviamo mail in tutte le federazioni del mondo, stanno in giro video della città di Gaeta che girano per l'Europa e la gente continua a tornare non per la bravura di Antonio Viola, Ciano Cosmo, Giannattasio, Di Liegro, ma perché la città è bella e vengono, posono la macchina e in realtà si divertono, fanno gioco, sport e divertimento. Mino Ciano, Presidente del Ghetto 84, si riparte con la società di Palamone che comunque ancora non ha una squadra per il settore indoor, ma si continua la grande con il Calise Cup, quest'anno mi sembra che parlando con Viola si è parlato di un evento ancora più importante rispetto all'anno scorso. Sì, buongiorno, non potevamo certamente abbandonare il nostro torneo di punta, insomma, sono 30 anni che ci siamo adoperati per organizzarlo e quindi era giusto ricostituirci e andare avanti sui passi che già abbiamo fatto in passato. Quest'anno si arricchisce il nostro torneo Calise Cup della tappa italiana del Land Beach e quindi insomma contro ogni aspettativa perché naturalmente, come dicevi già prima, insomma per le difficoltà societarie avute qualche mese fa, riorganizzarci e pensare di poter riprendere il Calise ad alti livelli insomma non era facile, ma tutto questo è stato fatto grazie a un gioco di squadra importante, grazie al Vice Presidente Mauro Giannattasio, al Minister Antonio Viola, a tutti gli altri sostenitori atleti e non di questa organizzazione. Un ringraziamento particolare insomma al Comune di Gaeta, nella persona del Sindaco Cosmo Mitrano, dell'assessore Gigi Ridolfo e di tutti gli uffici preposti per l'annessione dell'Arena Beach dove si svolgeranno le gare, anche il campo principale insomma, dei quattro campi che ci saranno sulla spiaggia di Serapo e poi un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana Gioco Handball che da quest'anno insomma fa parte di tutta l'organizzazione anche del Calise, della Confo Commercio Razio Sud con il suo contributo importante che quest'anno ci ha dato grazie all'amico Presidente Giovanni Acampora e a una serie di tanti partners e personaggi del CONI importantissimi per la realizzazione di questo torneo che ormai è tra i primi dieci tornei d'Europa e quindi voglio dire una città come Gaeta è una cosa bella. Poi è fondamentale quest'anno rispetto all'anno scorso che il marchio è tutto locale diciamo Gaeta, Gaeta 84, Comune di Gaeta e dirigenza tutta di Gaeta no? Sì vabbè una cosa fatta in casa, in famiglia ti ripeto ci siamo riorganizzati, ci siamo guardati un attimino in faccia e abbiamo... Si deve dire questo almeno perché comunque l'anno scorso era comunque Cuscazzino quindi era una componente esterna, questa invece è tutta locale. Certo no, ci siamo guardati in faccia e abbiamo ripreso il nostro cammino insomma è importante perché poi io vengo da 30 anni di diciamo di gioco di palla a mano insomma ho vestito per 30 anni la casacca di questa squadra e oggi per me è un giorno importante, è molto emozionante insomma mi ritrovo da quest'altra parte a fare il presidente per volere di tanti amici e quindi mi fa molto piacere, mi fa molto piacere questa cosa. Aspettiamo solo questo evento che mi sembra che merita come evento appunto a livello sportivo ma anche è importante per dare visibilità anche alla città di Gaeta che forse non ne ha bisogno però è meglio confermarlo no? Sì no perché è importante ma noi da sempre insomma abbiamo sempre cercato di abbinare il binomio insomma sport turismo e quest'anno ci sono 11 nazioni rappresentative rappresentate nel torneo e quindi i ragazzi che verranno avranno sicuramente modo come già fatto in precedenza di apprezzare le nostre bellezze paseaggistiche e storiche e avranno modo anche di viversi un po' la movita notturna Gaetana visto che all'interno del torneo insomma c'è qualche festicciola poi per la sera per farli divertire un po' questi ragazzi. Eccoci anche con Gigi Ridolfi in attesa di questa presentazione della nuova edizione del Calise Cup mi sembra che quest'anno Gigi a pari dell'anno scorso è un evento che sta crescendo ancora di più a quanto ne ho sentito dai vari Viola e Minno Ciano Presidente. Sì sicuramente sta crescendo di più e di questo noi siamo molto fieri ed orgogliosi e quindi siamo sempre al fianco del Gaeta Handball nell'organizzare questo tipo di manifestazione che al di là dei suoi contenuti tecnici e sportivi che sono abbastanza elevati perché partecipano a squadre nazionali, squadre e campioni di beach handball quindi c'è anche un certo livello agonistico, c'è questa promozione del territorio che è importante, arrivano qua da tutta Europa quindi culture e abitudini diversi quindi la possibilità di confrontarsi proprio con altre realtà. Questa è una cosa importante sia per chi partecipa al torneo che anche per la cittadinanza stessa. Ovviamente questo comporta anche una ricaduta importante a livello economico perché comunque le strutture ricettive, la ristorazione e tutto quanto ruota intorno al turismo comunque ne traggono beneficio. Non per questo il grande appoggio della Confcommercio e della costa di Enea in questo senso garantiscono alla manifestazione anche un livello qualitativo sotto questo aspetto. Una cosa che chiaramente mi va di mettere in evidenza è che rispetto all'anno scorso abbiamo una società sportiva tutta locale con tutti i dirigenzi e cose varie che stanno partendo in un quarto con questo prodotto del Calise Cap che promette bene, no? Sì, è un prodotto che ha 30 anni, 30 anni di storia, significa un grande lavoro dietro, significa una grande organizzazione sia logistica che sportiva. La società si è praticamente dissaccata dal cordone umbilicale con il Cus Cassino, adesso lavora in proprio e questo è importante perché comunque è una realtà consolidata a Gaeta dal 1984 e poi c'è Antonio Viola che è un'icona ormai della palla a mano e quindi questo è una garanzia ulteriore perché questa società e questa squadra possono crescere nel futuro. Altra cosa importante, credo che il fatto che comunque si parla di quattro campi quindi la gente si potrà divertire, poi chiaramente il centrale, l'arena bici che promette come l'ha nascosto il grande pubblico, no? Sì, è importante che ci sia anche l'appoggio degli stabilimenti banneari quindi l'Aurora, Selene, Miramare e altre realtà che ci sono state vicine e quindi c'è questa possibilità che il torneo si svolga su quattro campi. L'aver riaperto tra virgolette l'arena bici l'anno scorso, avete visto voi tutti che risultato ha avuto, quindi quest'anno siamo riusciti a confermare l'apertura e quindi a realizzare questo torneo senza non poche difficoltà ma comunque ci siamo riusciti, quindi questo è importante in proiezione futura quando con l'approvazione del nuovo piano a Reinili ci saranno due zone sportive, una è questa, un'altra è quella in definizione, quindi significa che questo torneo avrà comunque lunga vita ancora e poi c'è sempre questo progetto che è in piedi con la federazione di poter far diventare Gaeta un centro tecnico federale quindi proprio per il beach handball e poi allargarlo anche attraverso il CONI alle altre discipline su spiaggia. Questo è un progetto più a lungo termine però noi lo portiamo ancora avanti e siamo sicuri che prima o poi riusciremo anche in questo intento.